Dibattito in corso sulla sentenza di Epistaggio Borsellino in attesa delle motivazioni, carrellata sui processi celebrati dal 1994 fino ad oggi. La sentenza emessa lo scorso 12 luglio dal Tribunale di Caltanissetta, preseduto da Francesco D'Arrigo, è destinata ad alimentare, come già accade in modo ricorrente, il dibattito sul perché non sia stata riconosciuta l'aggravante, ovvero che la calugna abbia favorito la mafia, e sul perché si è trascorso così tanto tempo, tanto da prescrivere l'ipotesi di reato della calugna non aggravata. Sono pertanto attese le motivazioni adotte dalla sezione penale giudicante. E ciò sia affinché la procura di Caltanissetta valuti se proporre il ricorso in appello, e sia affinché, allo stesso modo, i due imputati scagionati dalla prescrizione, Mario Bo e Fabrizio Mattei, valutino altrettanto se ricorrere ai giudici d'appello, affinché la loro presunta colpevolezza o innocenza sia riscontrata nell'emerito. E dunque altro tempo trascorrerà dopo la miriade di processi che sono stati imbastiti dopo l'esplosione del 19 luglio del 92, tra il Borsellino 1, BIS, TR, QUATER, e poi un giudizio di revisione per rimediare a 7 ergastoli inflitti a 7 innocenti, vittime dei falsi pentiti come Scarantino. E poi ancora in corso, in secondo grado, il processo a carico dell'ultimo superlatitante di Cosa Nostra, il boss Matteo Messina Denaro, già condannato all'ergastolo in primo grado come mandante. Il primo processo per la morte di Paolo Borsellino e dei poliziotti di scorta è stato celebrato nel 1994. Gli imputati furono Vincenzo Scarantino, che si auto-accusò, e poi il presunto boss Salvatore Profeta, Giuseppe Orofino, proprietario dell'officina, in cui fu imbottita di Tritolo la Fiat 126, usata come autobomba, e poi Pietro Scotto. In primo grado furono tutti condannati all'ergastolo e Scarantino a 18 anni. In appello l'ergastolo è stato confermato solo per Profeta. La condanna di Orofino è stata ridotta a 9 anni per favoreggiamento e Scotto è stato assolto. Confermati 18 anni a Scarantino, le condanne sono state rese definitive dalla Cassazione. Il processo Borsellino-Biss, con imputati i boss della cupola e i capi mandamento di Cosa Nostra, si è concluso il 18 marzo del 2004, con 13 ergastoli. Anto Torriina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Giuseppe Graviano, Carlo Greco, Gaetano Scotto, Francesco Tagliavia. E poi ergastolo anche per Cosimo Vernengo, Giuseppe Lamattina, Natale Gambino, Lorenzo Tinnirello, Giuseppe Urso e Gaetano Murana, che in primo grado furono assolti. La sentenza è stata confermata dalla Cassazione, quindi definitiva. Ma il pentimento del capo mafia, Gaspare Spatuzza, che ha denunciato il depistaggio, ha determinato la sospensione e poi l'annullamento, con giudizio di revisione, delle condanne per i set innocenti vittime dei falsi pentiti. Profeta, Scotto, Vernengo, Gambino, Lamattina, Urso e Murana. E poi ancora il processo Borsellino-Terre si è concluso nel 2006, dopo che la Cassazione annullò parzialmente la sentenza del 2003 della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. Ergastolo per Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Michelangelo Labarbera, Raffaele e Domenico Ganci, Francesco e Giuseppe Madonia, Giuseppe e Salvatore Montalto, Filippo Graviano, Cristoforo Cannella, Salvatore Biondo il Corto e Salvatore Biondo il Lungo, Giuseppe Farinella, Salvatore Buscemi, Benedetto, Nitto, Santa Paola, Mariana Gate e Benedetto Spera. I due collaboratori di giustizia, Antonino Giuffre e Stefano Ganci, sono stati condannati rispettivamente a 20 e 26 anni di reclusione. Condannati anche tre pentiti, Salvatore Cancemi, 18 anni e 10 mesi, Giovanni Brusca, 13 anni e 10 mesi e Giovan Battista Ferrante, 16 anni e 10 mesi. E poi ancora il Borsellino Quater si è concluso con sentenza definitiva in Cassazione il 5 ottobre del 2021. Ergastolo per strage a Salvatore Madonia e Vittorio Tutino. E poi condannati per calugna e tre falsi pentiti, Calogero Pulci, 10 anni e Francesco Andriotta, 9 anni e 6 mesi. Prescrizione per Vincenzo Scarantino.